Benvenuti, bentornati bestiacci in questo incredibile giorno di festa, di allegria, di annunci, di vittorie, di celebrazione. Eccoci, oggi ragazzi è uscito Evil Nun, gioco che stiamo portando sul canale da due anni, un anno e mezzo circa, e che è diventato un po' una sorta di zecca, di pulce, di parassita della nostra ormai mondana situazione qua in live ogni sera. Ora bene o male ritorna, riciccia fuori, almeno una volta al mese, suor Matilda, almeno una volta al mese. Però questa volta, ragazzi, in definitiva il gioco è uscito, è uscito dall'early access, quindi stasera noi giochiamo alla versione completa, ultimata, pronta, fatta e finita, confezionata del gioco, celeberrimo, che ha reso famoso, non ne ho idea, fatto da non mi interessa, che parla di suor Matilda, di suor Filippa e di noi, Dinosaurus, personaggio femminile a quanto pare, perché a quanto pare, io non avevo idea, ragazzi, ma noi interpretiamo i panni di una bambina, lo sapevate? Lo sapevate? Lo si deduce dal fatto che ogni volta che inciampiamo in qualcosa o qualcosa ci uccide o ci veniamo catturati, facciamo questo suave suono. Quindi vuol dire che effettivamente, insomma, c'è qualcosa che non torna di per lì. Ma l'abbiamo scoperto, questo è un po' la lore, diciamo, un po' il sottobosco di trama di questo gioco, che ormai abbiamo imparato ad amare. E quindi, in sostanza, eccoci qua. Ragazzi, oggi suor Matilda ritorna, non per l'ultima volta, perché poi magari, cioè, che ne sai, che ne sai quanto cazzo ci vuole a finirlo sto gioco, però noi dovremmo fare l'ultimo livello e quindi oggi facciamo l'ultimo livello. Però oggi è anche un giorno fondamentale perché ci sono stati i Games Award del 2023, ieri, cioè, stanotte, in realtà, dalle due di notte fino alle cinque del mattino, c'è stata gente che non ha un cazzo da fare, che domani non si doveva svegliare per fare nulla, pronta a vedere una live in diretta dall'America, dove i celeberrimi, tutte le case di sviluppo di quest'anno, si sono riunite per celebrare il gioco dell'anno. Le nomini di diverse categorie, i giochi che hanno vinto sono tanti. E vorrei scoprirli insieme. Se mi permettete, prima parliamo di questo, poi iniziamo a giocare. Se mi permettete, prima io vedrei gli annunci, perché si fanno anche gli annunci durante i Game Awards di giochi nuovi, di cui non sapevamo un cazzo, o di roba che bene o male si sapeva. E lo vorrei fare con un video riassuntivo, un riassunto, fatto dai goliardici amici di multiplayer, professionisti, professionali e professionisti, dalla durata di dieci minuti. Noi saltiamo le parti iniziali, le parti in cui vi diranno iscriviti al canale, non ce ne frega un cazzo, e parleremo semplicemente degli annunci e dei premi, perché ci sono stati i premi, ovviamente. E io sono così felice che il gioco dell'anno l'abbia vinto Baldur's Gate e non abbia vinto Starfield. E sono così felice che il gioco dell'anno l'abbia vinto Baldur's Gate e non l'abbia vinto Alan Wake. E io sono così felice che il gioco dell'anno l'abbia vinto Baldur's Gate e non l'abbia vinto Legend of Zelda. Sono così felice ragazzi, voi non avete idea, e quindi direi di riassumere tutto quanto, di riassumere tutto quanto con un bel video. Che dite? Quelli che hanno... A me fa ridere Starfield ragazzi, perché quelli che hanno tanto agognato al successo di Starfield e alla meravigliosa esperienza che è questo gioco, dicendo che schifo, non si è preso neanche una nomination, beh indovinate un po', queste stesse persone che lo volevano perlomeno vittorioso nella categoria gioco di ruolo del 2023, non l'hanno neanche votato, cioè il gioco non è stato votato da un cazzo di nessuno, neanche da chi l'ha sviluppato. Quindi facciamoci due domande, facciamoci due domande, diamoci due risposte. E il Blade 2 che ne pensi? L'hanno annunciato? Non ne ho idea, adesso volevo vederli con voi, mi hai spoilerato tutto, perciò direi che possiamo anche chiuderla qua, ci vediamo direttamente lunedì. È stato un piacere ragazzi, mi dispiace per questo spoiler, però si sa, funziona così. E niente, alla prossima. Come prima volta in live, vergognati, è un piacere, un onore, mi dispiace per quello che stai per passare. Va bene? La fine non posso perdermela? Esatto, esatto, esatto. Perfettamente il senso che abbia vinto Baldur's? Non è detto, non è detto, per alcuni non è stato così, per alcuni di quelli che, coloro che non hanno giocato a Baldur's Gate, molto probabilmente, però vabbè, ci sta, ci sta. Allora, io direi di partire, Dino è il compleanno di Melina, allora facciamo tutti gli auguri, tutti gli auguri. Voi votate, sì, augurategli gli auguri, augurategli gli auguri. Suora? Suora? Si ritorna ragazzi, si è fatta suora Melina. Ci sarà scritto? Non l'ho letto, non l'ho letto. Comunque intanto ringrazio Debbie, ringrazio Giuse, ringrazio Greenwich, ringrazio Riccardo, ringrazio Destiny, ringrazio Shinobi, Kurai, Wolf, Brody School, Tank e Brad, Paolo Motta, Danilo Pezze, De Baiton, ovviamente, Hal Rizzo e tutti gli altri che si sono salvati. E ricordo a voi, sub di Twitch, che il 20, devo dire di Twitch perché è incredibile, va specificato, che il 22 dicembre facciamo i nostri Game Awards, facciamo i Copti Awards, stiamo organizzando una bella serata e alla fine di quella serata uno di voi si porta a casa una PlayStation 5. Non so se mi spiego. Non solo una PlayStation 5, perché oggi è anche una bella giornata, perché? Perché vi regaliamo la PlayStation 5, non oggi, il 22, però la regaliamo con un bundle di God of War Ragnarok, una PlayStation 5 digital con bundle di God of War Ragnarok. E indovinate un po' la Santa Mosin che ha cosa si è permessa di fare. Indovina, cazzo. Ha annunciato un DLC completamente gratuito di God of War. Un DLC completamente gratuito di God of War. Assassin's Creed, stavo per dire. God of War Valhalla, dovrebbe chiamare... Cosa cazzo c'è tra i baffi? Cos'è sta roba? Un pelo bianco? Bene, buono. Sto invecchiando là dove non batte il sole. Sotto il naso. Il sole non batte sotto il naso, si sa. Un DLC di God of War, chiamato God of War Valhalla, e quindi, ragazzi, sembra fatto a posto, sembra che la Santa Monica lo sappia. Incredibile, incredibile. Eh, ci sta, ragazzi. Mi leggono nel pensiero. Quindi, ragazzuoli, grazie per tutto. E niente, preparatevi perché il 22 uno di voi se la porta a casa sta console, va bene? Va bene? Buono, dai. Allora, saluto tutti quanti voi, guardiamo sto video e poi iniziamo a giocare. Va bene? Pixie Dragon, Wolf, Tommy, The Big Luke, ce l'ho fatta, che ha regalato un abbonamento a Sakuna, che sa chi ringraziare. Rotu Valhalla. Lady Metal, poi abbiamo Luca, abbiamo Streamlabs, benvenuto, Ricardum, Ale, poi abbiamo Lind, Smerilodonte, Smerilodonte, Overground, Bigette, Pixie Dragon di nuovo, Arno è tornato, Smerilodonte, Billy, Noctus Dream, Ashen, Tonics, Rebecca, Ale20, Dark, tua madre, grazie, grazie, grazie. Infatti, mia madre è un po' Dark, Greenwich, Killgamer, Killjoker, vabbè è la stessa roba, Sabby, Sicario, eh? Sub, Gab, eh? E Ellis, poi chi altro? King, Balberif, Sad Song, Julesen, eh? Klesiandra, che se non ce la faccio a leggervi, ragazzi, nomi normali, chiamatevi con dei numeri, 1, 2, 3, 4, sarebbe molto più, tanto siamo numeri per questa società malata. Giu Giu Mato, sto per stossire, Iris, Debo, Tosola, ve l'avevo detto, Fanel, Brian, eccolo lì, eh? Nardo Nerdo, Coldama, e ultimo, ma non ultimo. Chi è l'ultima ruota del carro? Chi è l'ultimo chiodo di bara? Chi è l'ultimo istante di vita? Chi è? Chi è? Joms, sei tu, sei tu. Benvenuto, bestiaccia, benvenuto, un piacere, un onore. Allora, ragazzuoli, direi di partire con questo video, sono curioso di vedere un po' che sarà, che sarà di noi. 3, 2, 1, dalla regia, Multiplayer.it, Game Awards, riassunto, Game Awards, eccoci. Come ormai da tradizione, l'anno videoludico si chiude con i The Game Awards. Come ormai da tradizione, vi consiglio di iscrivervi al loro canale, perché ce lo dirà a breve. Un show a metà strada tra la celebrazione degli ultimi 12 mesi e una conferenza che presenta le maggiori novità del nuovo anno. Il doppiaggio di Evriai, vabbè, stessa roba, Multiplayer Evriai, no? È la stessa cosa. Il doppiaggio di Multiplayer, ragazzi. I doppiatori di Multiplayer mi fanno morire da ridere. Li voglio che doppino tutto, da Netflix a D-Max. Andiamo avanti. Una Kermess è quella di Jeff Keighley che oltre a Evriai. Una Kermess. Allora, nel pre-show, cosa hanno fatto vedere? Si è un antipasto fatto di primi annunci. Si è visto qualcosa nel pre-show? Ma basta! Cos'era quella cagata in VR? Assassin's Creed VR? Cos'è sto gioco qua? Il pre-show si è aperto con l'annuncio del remake in Unreal Engine 5 di Brothers A Tale of... Attenzione, il remake di Brothers A Tale of Story? A Two Sons, scusatemi. Incredibile! Chi se ne frega. Questo qua è un gioco cooperativo, ragazzi, che se vi può interessare, è un gioco cooperativo locale, dove si parla di due fratelli che se lo buttano. Tanti presentati all'evento spiccano poi i seguiti di Pony Island e di Golden Idol, ma sono stati tanti i ritorni di autori apprezzati da chi negli ultimi anni ha seguito con interesse la scena indie. Hanno annunciato l'altra di Wukong. Grazie, Andrea. Sarebbe bello scoprirlo col video. Aspetta un attimo. Adam Saltzman e il team di sviluppo fin... Bannate Andrea, per favore, che ha spoilerato. Ci hanno presentato ad esempio Usual June, un gioco d'azione in terza persona che ci metterà nei panni di una studentessa universitaria in grado di parlare con i fantasmi. Questa studentessa universitaria che ha un'età che più o meno varia tra i 15 anni e i 45, accompagnato da questo spirito, sembra essere però un gioco abbastanza artistico. Mi interessa? No. The Odd Gentleman ha presentato invece Harmonium, un musical che ha come protagonista una bambina che comunica attraverso la lingua dei segni. Stavamo aspettando effettivamente un altro gioco con una protagonista femminile e volevamo tutti che fosse perlomeno sordo-muta. E infatti le nostre richieste sono state esaudite. Bello questo! Eh, questo sembra figo! Cioè, è abbastanza... Però... Cosa cazzo? Com'è che si chiama? Flesher? Thumper? Thresher. Quanto ci credono, Thresher. In distanza di 15 anni tornano anche i 2D Boys e Tomorrow Corporation con World of Goo 2, ovvero il seguito del classico indie creato da Kyle Gabler e Ron Karm. Ah, non mi interessa. Con un nuovo trailer che ne ha confermato l'uscita nell'autunno del 2021. Ok, dai, gli annunci, su. Porco 2! Porco 2! Pubblicità di merda! Sono stufo io, YouTube! Mi sono rotto il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Perdonatemi. Comunque Paco Rebon, qui lo salutiamo. Ah no, sì, Mignon Rebon. Per lei, per lui. Per voi, così non soffrendo nessuno. Trattenimento natalizio. Ah, questa è pubblicità di Amazon, guardatevela tanto, sento tutti in famiglia qui. Amazon Prime, che bello. Eccoci qua. Sono finalmente aperti con un tocco di leggerezza. Chi è che si è aperto? Christopher Judge, attore che interpreta Kratos. Christopher Judge, che molti non sapevano essere l'attore che interpreta Kratos. E qui da lì la gag all'italiana. No, ma davvero, Kratos è nero! Incredibile, esilarante. Ecco, questo ha portato a parte, lui è un attore molto bravo che ha fatto diverse cose, però ovviamente lui è Kratos, lui è Kratos. E l'hanno usato per fargli fare gli annunci dei Game Awards. Fighissima sta roba. Tuo ironia sul suo lunghissimo monologo nella passata edizione dello show, affermando con sarcasmo che quello di quest'anno sarebbe stato comunque più lungo della campagna dell'ultimo Call of Duty. Ah sì, l'ho vista sta stronzata, sta scena qui. Questa strizzata d'occhio della Sony, è incredibile, è incredibile, è incredibile, è incredibile. La Sony perde, diciamo, l'esclusività su Call of Duty e la prima cosa che fa è mandare Kratos, il suo mandante, a dire che la campagna di Call of Duty è corta ed è una merda. Sì. Sono poi passati su Matthew McConaughey. Che cosa? Perché? Matthew McConaughey secondo me è per metà italiano, perché gesticola. La voce di Christopher Judge è tornata a tuonare quando PlayStation ha presentato God of War Ragnarok Valhalla. Madonna santa. Allora, di questo ne parliamo dopo la giocata, ricordatemelo che dopo che abbiamo finito di giocare Evil Nun, riguardiamo il trailer di sta roba, perché c'è molto da dire, io l'ho visto. E si scopre qualcosina di interessante, a partire dal nome che è God of War Valhalla. Uno dovrebbe dire, vabbè, ma chi se ne fote? Beh no, perché in realtà è ambientato dopo la fine di God of War, quindi qualcosa è accaduto. Che c'è sta roba? Che c'è sta roba? Bello, bellissimo. Bello, bellissimo. Ah, demo gratuita l'11 gennaio, forse è l'unico gioco che ho avuto. Oh! Con un nuovo e spettacolare trailer che ha confermato anche l'uscita. Non l'ho visto, lo voglio vedere con voi. Reaction incredibile dopo la giocata di stasera. Ricordatemelo, quindi, God of War, segnatevelo, dobbiamo guardare il trailer di God of War insieme e il Blade 2, che in questo gioco lo voglio, pensavo fosse stato cancellato, e dopo lo guardiamo. Per il 2024. Sto bene. Sto bene. Troppo breve è stato invece il trailer di Kemuri, titolo di debutto di Hansin. Kemuri? Il sviluppo giapponese fondato da Ikumi Nakamura dopo aver lasciato la... Guarda, non sembrano per niente dei rincoglioniti. No Rest for the Week, ed è invece il nuovo gioco multipiattaforma di Moon Studios. Un'azione RPG dallo splendido stile... Che bello! ...di cui non avremo più dettagli prima del prossimo marzo. Che figo, anche questo, ricordiamoci il trailer. L'evento ha invece portato gli appassionati in Giappone. Sega ha infatti annunciato non uno, non due, ma un'intera nuova generazione di giochi che riprendono alcuni dei franchise più... Non ci importa! Non ce ne frega! Ma rimaniamo in Giappone con un esplosivo trailer di Dragon Ball Spark... Basta. 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 Basta, Dragon Ball. Basta. Basta. King Zero. Ma come perché, Dino? Basta, figa, basta! Basta Dragon Ball, ragazzi! Sono 40 anni che caga la minchia con lo stesso gioco! Basta! Ma basta! Ma il mio pisello è figo! Basta, ragazzi! Porco 2, basta! Se abbiamo il cervello veramente obliterato dallo stesso cazzo di materiale ogni anno, per favore, andiamo un po' avanti col mondo, andiamo avanti con la nostra vita. ...serie Budokai Tenkaichi. Nel 2024 arriverà anche Visions of Mana, il nuovo episodio della storica serie JRPG di Square Enix, mentre un trailer di Rise of the Ronin ha confer... Mi ha preso un infarto, pensavo fosse Ghost of Tsushima 2. Bastardi, stronzi, non giocherò mai il vostro gioco solo per questo. ...firmato che l'action sviluppato da Koei Tecmo sarà pubblicato il 22 marzo... ...me ne frega un cazzo! ...giusto il tempo di riprendere fiato con un... ...giusto il tempo! ...un paio di spot pubblicitari, ed ecco che Ideo Kojima è comparso... ...ma non con Death Stranding 2, bensì con un teaser di O.D., ovvero il vociferato gioco horror che Kojima Productions sta sviluppando in esclusione per Xbox. Tutto a posto! Anche questo trailer lo voglio vedere, firmiamocelo, O.D., O.D., O.D.O. ...di aver sempre cercato nuove sfide e che stavolta è deciso a realizzare qualcosa di... Vabbè, già si vede tecnologia a manetta, abbiamo... abbiamo quello che sembrerebbe il motion capture del viso, con tra l'altro nelle retine si vede i riflessi delle telecamere per quella quale ha ripreso il viso di sta qua e non capisco... Stanto questa attrice l'ha già vista da qualche parte, non capisco... Non so se sia CGI o se sia la vita vera, ormai non lo so più... ...completamente diverso, etichettando quindi la sua nuova creatura come nuova forma di intrattenimento. Ma è il mio testicolo questo! ...è stato poi raggiunto sul palco da Jordan Peele, con il regista che ha confermato la sua collaborazione con Kojima Productions per lo sviluppo di O.D. nel tentativo di sfruttare il linguaggio dei videogiochi per raccontare... Ma quindi Kojima adesso ha le mani in pasta con Death Stranding 2 e O.D.? Eh, vedremo. Questo l'ho visto! Ho sputato! Questo è una figata! Come? E me lo liquidano così! Ho visto il gioco! Allora, io voi non lo so se lo sapete, sarà anche il fatto... Dino va a richiamare un po' tutto quell'universo un po' alla Jurassic World. Adoro i fottuti dinosauri. E, 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 devo dire che questo gioco che si è appena visto, questo micro spezzone che si è appena visto, mi ispira un botto. Dovrebbe essere un survival horror ambientato a Jurassic World. O meglio, sull'isola di... Come cazzo si chiama? Non mi ricordo più. Del primo Jurassic Park. Gli eventi precedenti a quel cazzo... Cioè, wow! Questo lo voglio... In seguito a un trailer cinematico dedicato orientale. Ecco qua, Wukong. Che ha presentato nuovi personaggi... A Wukong anche questo. Quindi anche questo trailer dobbiamo vedere. Ragazzi, c'è un po' di roba da vedere. Mamma mia, che meraviglia. Sembra molto... Molto... Aspetta che il cancello dalla mia vista sta cagata. Fatemi togliere qualsiasi merda di... Merdata di sì, la voglio eliminare dal mio cervello. Non esiste più. Andiamo avanti. Frame, presentato con un lungo filmato cinematografico. Inoltre è stato annunciato che Banisher's Ghosts of New Eden... Ah, questo qua era carino, sì. 13 febbraio. Mentre la versione 1.0 di Radio Not sarà pubblicata il 13 dicembre. Non mi interessa. ...idvania 2D in uscita ad aprile... Che cos'è? No, fermi, boni! Che cazzo? Fermatevi! ...iei Originals sarà invece pubblicato Tales of Kenzera Zhao. Tales of Kenzera Zhao, ma è uno scioglilingua. ...di sviluppato da Surgeon Studios. Beh, Surgeon Studios. ...di dia 2023 sono stati anche l'occasione. ...di presentare Lost Records Bloom and Rage. Vabbè, ma che titoli sono, figa! Sembra una marca di fazzoletti! Ma cos'è? ...in arrivo a fine 2024... ...i Goonies, Lost Records, Bloom and Rage. ...pur strizzando l'occhio a Life is Strange, il gioco racconta... No, basta! È veramente, basta, eh! Questi giochi... ...geniali. ...protagonista nell'estate del 1995. ...buono, molto buono. ...il nuovo trailer di Final Final... ...ovviamente c'è lo stereotipo di ogni forma di etnia e multiculturalismo. Abbiamo la ragazzina grassa, il ragazzino magro, la ragazzina bullizzata e il ragazzino bullo. ...fantasi 7 Rebirth è stato poi accompagnato da una performance musicale. ...prima dello strano anno... Che sta succedendo? Stava starnutendo? Che stava... ...dopo innumerevoli posticipi, poi Ubisoft sembra stavolta da... ...basta Ubisoft, basta! Ritirati, dai su! ...permando quindi con un trailer l'uscita fissata per febbraio 2024. Cosa? Per quella cagata di Skull & Bones? ...preceduto la manifestazione era trapelata online anche l'indiscrezione secondo cui Arkane Studios fosse al lavoro su un titolo dedicato a... ...guarda Arkane! ...ebbene, l'evento Los Angelino ha confermato che il personaggio Marvel è effettivamente... Ah sì, allora, sto trailer l'ho visto, quindi non lo stiamo a rivedere... ...gioco su Blade, Marvel, supereroi, vampiri, dunque... ...Bethesda, Arkane, perché? A caso. Quindi potrebbe non solo essere un'esclusiva Microsoft... ...ma è fatto dalla Bethesda, cioè capisci? E dall'Arkane! Quindi io ho detto, ho fatto... ...wow, poi appena è uscito Bethesda ho detto... ...ezz, e basta, io questo ho smesso. ...paresemente nelle mani degli autori di Deathloop e Dishonored. Il teaser trailer tuttavia non ha fornito alcun indizio su come l'immaginario di Blade... ...paresemente comunque, a livello estetico, Arkane, secondo me, ci azzecca sempre. Poi che l'ultimo gioco faccia schifo, lasciam perdere. Però, sto stile qua, un po' spigoloso che ha nelle modelli 3D, secondo me si abbina perfettamente a Blade, è veramente figo. Che poi, tra l'altro, ragazzi, sembra un pezzo preso da Redfall, cioè nel senso è la stessa cazza di roba. Si parla sempre di vampiri. Ah, in terza persona, meno male, meno male che non è in prima. The World. Sentinel. Il film era spettacolare. Oddio, spettacolare. È un film. Warhammer Space Marine ed Exoborne. Un gioco tattico con un'app open world, di cui si è visto solo lo streminzito thriller cinematogrifico. Thriller cinematogrifico. Come cazzo parla? Le sta sbagliando tutto. Thriller cinematogrifico. Open world? Ma fermati. Parla come mangi. GTFO con l'annuncio dell'ultimo aggiornamento. Ah, GTFO? È vivo? Anderson e il suo team, Ten Chambers, hanno rivelato il loro prossimo progetto antigiocatore intitolato Danowolves. Eh? Così, mentre la serata si avviava verso la chiusura, Sean Murray ha rivelato che Hello Games ha passato gli ultimi cinque anni non solo a ragionare ed espandere No Man's Sky, ma anche a lavorare sul suo prossimo progetto. No, ti prego, un'altra denuncia in atto, no? Un'altra class action? No, ci siamo. Cosa vuol dire? Cosa stanno facendo? Un'esperienza multiplayer che riprende la tecnologia e le conoscenze costruite da Hello Games con No Man's Sky. Allora, ammetto che effettivamente No Man's Sky a me adesso io lo reputo uno dei migliori giochi esplorativi chill, chiamateli come cazzo volete, che esistono sulla faccia della terra. Il fatto che stiano lavorando a un gioco fantasy mi attizza parecchio perché, cazzo, se viene fuori una roba alla No Man's Sky, tanto di cappello, magari con la randomicità, immaginatevi, che cazzo ne so, ci sono i draghi, c'hai le viverne, ognuna fatta a modo suo, sarebbe veramente figo. Mondi che esplori e che solo tu hai trovato. Il problema qual è? Che questa roba che stiamo vedendo non la vedremo mai, palesemente. Ci vorranno sette anni perché si arrivi a sto livello. E l'altro problema è che lo stile della Hello Games non ci azzecca un cazzo, stilisticamente, non ci azzecca un cazzo col gioco fantasy medievale. Che hanno accompagnato il lancio della sua ultima opera. C'è, vedi? Cioè, sembra sempre No Man's Sky. Bello, eh? Ma sembra una sorta di fantasy futuristico. Ha cercato di non esagerare. No, sembra bello, sì, sì, quello è quello. Non nascondendo comunque il fatto che Light No Fire è il progetto più ambizioso a cui è la realtà. Beh, cazzo, ragazzi, però, cavalcare in Africa un licaone deve essere una figata. Quelli sono conigli che si pronano a me? Lo voglio. Final Fantasy XVI sarebbe... Basta! Siamo arrivati al XVI! BASTA! Ma sorpresa di che? Che ogni anno ne ciccia fuori uno, che cazzo di sorpresa è? Ma avete rotti i coglioni! Della prossima primavera. Ah, e a proposito di lanci a sorpresa... Ma te lo lancio in faccia io! ...competitivo che punta forte sulla distruttibilità degli ambienti... Che è sta roba? ...è stato pubblicato al termine dei The Game Awards presentato con un esplosivo... Ma che è sta roba? E quando ormai le lancette dell'orologio puntavano alle 4 e 55 del mattino in Italia... Capcom ha risvegliato l'attenzione di molti con l'annuncio di Monster Hunter Wilds, nuovo capitolo della sua popolare... Scusami, eh... Ma Monster Hunter Wilds non era mica il nome dell'altro Monster Hunter che è uscito prima... Ma c'è un altro Monster Hunter... Che si chiama Wilds... Scusami, eh... Qualcosa non torna... Vabbè, vediamo com'è... All'altro era World... Ah, è vero, Monster Hunter World... Sai che pensavo... Mi ricordavo si chiamasse Monster Hunter Wilds... Cioè, quindi, erroneamente, io ho dato il nome al gioco per anni... Con un suo capitolo successivo... Beh, ma eccezionale... ...arrivo nel 2025 su PC, Xbox e PlayStation... Ma quello era il trailer, il teaser... ...è stato uno Sven Vink in armatura che è salito sul palco... Oh, guardalo che bello lui... Lo sviluppatore di Baldur's Gate... Il premio vinto da Baldur's Gate 3... Giustamente vestito in giacca e cravatta... Come si compiace, giacca e cravatta medievale... Ah, già, i premi, avete ragione... Beh, ok, facciamo una breve panoramica su tutti i riconoscimenti assegnati... Dai, veloce, chi cazzo ha vinto? Che si porta anche a casa la statuetta per il miglior RPG... Quella per il miglior supporto community... Quella per il miglior multigiocatore... Il voto del pubblico... E il premio per la miglior performance... Ci ha vinto tutto... Ok... Alan Wake 2, invece, si è aggiudicato ben tre riconoscimenti... Alan Wake 2... Miglior narrativa, miglior direzione artistica e miglior game direction... E anche miglior noio, però, vabbè, questo è un mio... Sono... Ormai combatto contro i mulini a vento... Medaglia di bronzo, invece, per Forza Motorsport... Che riesce a fare suo il premio per il miglior titolo sportivo... E quello per l'innovazione nell'accessibilità... Ma chi se ne frega... Ma chi se ne frega... Ma a parte questi tre titoli che hanno fatto la voce grossa... Il resto delle statuette è stato distribuito in modo a dir poco frammentato... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha ritirato il premio... Ah, ha vinto qualcosa... Miglior action adventure... Miglior action adventure... Vabbè, il premio di cortesia su... Senti... Zelda non si meritava un cazzo quest'anno... Su, coppia in colla dell'anno scorso con... Con due nuvole in più, dai... Non pigliamoci per il culo, per favore... Street Fighter che cazzo deve vincere se non il miglior picchiaduro... Forza che cazzo deve vincere se non il miglior gioco con le ruote... Cioè, che premi sono? Forza, i Fires of Rubicon è stato assegnato il riconoscimento per il miglior gioco d'azione... Miglior gioco d'azione... Final Fantasy si porta invece a casa la statuetta per miglior colonna sonora con il sedicesimo capitolo... E il premio per il gioco più atteso con Final Fantasy VII Rebirth... Quindi questo è il gioco più atteso... Siamo messi male, ragazzi... La statuetta per il miglior debutto è andata a Cocoon... Mentre quella per il miglior titolo indipendente è toccata a Sea of Stars... Non so nulla di tutto ciò... Eccoci al termine del nostro lungo recap... Ma sentiamo voi, piuttosto... Qual è l'annuncio che vi ha elettrizzato di più? Ma soprattutto, trovate giusti i premi che sono stati assegnati? Beh... Il mio parere non importa, ormai li hanno assegnati, quindi... Che serve? Detto ciò, devo dire che secondo me è stato un Game Awards abbastanza bilanciato... Considerando le vittorie... Vi siete segnati i giochi che dobbiamo poi reattare? Per l'amor di il cielo... Come no? Come no? Rivediamo undici minuti di video... Sì, a parte God of War... Quello è l'unica roba che mi ricordo... Sì? Ok, mi raccomando, dopo ci facciamo la carrellata dei trailer... Iniziamo a giocare con Suor Matilda, che sennò non la finiamo più... Ragazzi, io vado a coronare il sogno di ogni pischello che è stato costretto... Al campeggio estivo, o è stato costretto alle suore, all'educazione forzata delle suore... Io vado a coronare il sogno di ogni bimbo che è cercato di scappare da un'educazione cattolica cristiana forzata... Io vado a coronare il sogno di Dinosaurus... Un bambina in grado di fare molto... In grado di subire tanto... Tipo un sacco da Pungible... Però ritorna sempre in piedi... Sanguina, eh... Sanguina parecchio... Mentre sto dicendo ste cagate sto facendo partire il gioco, ragazzi... Per questo che dico ste minchiate... Ti mando in collegio... Sì, sì, il famoso ti mando in collegio... Alla faccia del collegio... Ti mando dalle suore, eh... Suora! Aspetta un attimo che se stiamo parlando tutto di nuovo... Che novità... Vediamo se è funzica... Pronto? Oh sì... Ecco, sentiamo l'audio, però... Servono le immagini... Ci siamo! Menù pressoché identico... Non è cambiato una benannata bicchia... Gioca! Continua! Dinosaurus! Olè! Eccoci qua! Eccoci qua! Che bella è! E rimane sempre smagliante, ragazzi... Un sorriso, un programma... Sto tenendo premuto lo spazio per saltare il filmato... Giurno 1... Vendicaci! Perché? Va bene... Ma se alla fine del gioco prendiamo il posto della suora... Grazie per lo spoiler! Ma come fa una bambina a prendere il posto di una suora, scusami? Ha messo e concesso che siano entrambi vergini... Aspetta... Ma è già qua... Ma è già qua... Chiudi sta cazzo di... Ok... Fermi! Ora... Ora... L'idea principale è... Esatto! Esatto! Abbiamo di qua... Questa porta che è aperta... Ma devo entrarci? Io non lo so... Questa continua... Che cazzo è successo? Sono inciampato! Allora... Con calma... Perché abbiamo... L'ultimo livello che è questo... Vedi la maschera c'è... Interagisci... La maschera ha bisogno di energia... Che minchia vuol dire? Allora... Vediamo un attimo se devo fare qualcosa qua... Ma non credo... No... Interagisci... No... E no... Trova la coppa magica con cui interagire... Ah sì... Devo portare la coppa magica... Merda... Quindi mi serve la coppa magica... Un'altra volta... Per alimentare la maschera... Un'altra volta... Poi ultimo livello, no? Eravamo già entrati? No... Siamo entrati... Sì... Siamo già entrati qui... Però non mi ricordo nulla... Quindi ci rientrerei volentieri in sta porta... Però prima cerchiamo la coppa magica... Ma... Dovrebbe essere nella porta... Nella porta però... Ah la coppa è lì? Ah allora a posto... Vado... La coppa è in quella porta... I go... I go... La bocca della verità... Ma questa roba l'abbiamo già fatta... Minzi... Porco due vacca boia... No... 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 Apri... Aprite... Aprite... Per favore... Minchia ragazzi... Non possiamo iniziare così però... Ma cos'era? Salve... Che cazzo era quello? Non era una suora... Porca putta... Che cazzo è? Ma perché? Cosa succede? Basta! Cos'è? Che cazzo è un contorsionista? Cos'è? Un circense? Non ho idea di cosa stia guardando... Va bene? E' tutto un trucco... Non va bene... Madonna... Non mi piace per un cazzo! E qua cosa c'è? Ah... Salve... Salve... Ma... Ok... E' una realtà parallela... Lasciamola tale eh... Lasciamola parallela... Stiamo per prenderci un jumpscare... Me lo sento? Me lo sento? Ho vinto... Congegno misterioso... Va bene... Ciao maestra P... P? Sono William... Tanto tempo fa eri la mia insegnante... So che sei una persona molto gentile e premurosa... Mi nascondo in questa scuola da diversi anni... Ho visto e sentito cose terribili che nessuno dovrebbe mai vivere... Dobbiamo incontr... Beh basta che non li hai vissute siamo a posto... Dobbiamo incontrarci di persona... Devo dirti una cosa molto importante... Incontriamoci qui vicino... Ancora... Soffre di ripetizioni... Dovrebbe essere educato... Alla porta che conduce fuori dalla scuola... A mezzanotte... Quando tutto è più tranquillo... Se vuoi puoi venire con un'altra insegnante... Sta organizzando qualcosa l'amico... Ma ti prego di non dire nulla a Medellin... Ossia Matilda... Tu sai perché... Ho scritto questo messaggio sulla lavagna nella tua stanza... Per attirare la tua attenzione senza spaventarti troppo... Voglio che tu capisca che questa è una conversazione molto importante... Spero di vederti presto... Lavagna... Che nome è lavagna? Ok lavagna ci vuole lì... Basta... Disinteragisci... Disinteressati... Sta... Toglimi sta roba dalla faccia... Toglimi sta... Ma porca di quella... Puttana... Oddio santo... Ne ho rotto la madonna... Che ho fatto? Che cazzo è successo? Che è successo? Che è sto suono? Cos'è che fa Tic Tac? Cosa cazzo... Ok... Si è impazzito l'orologio lì... Va bene... Allora... Sembrerebbe... Una sorta di... Viaggio nel tempo... Definiamolo così... Eh ma io... Non credo di potercela fare... Martello di suor Matilda... Cosa? Oh sì... No scusami... Che sta succedendo? Perdonami... Sono io suor Matilda adesso? Ma sono suor... Ma che sta accadendo? Ma che sta succedendo ragazzi? E quindi? Che devo fare? Ma cosa? Pensavo di dover rompere il muro... No... 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 Leggi di nuovo... No... Silenzio per favore... Basta... Ma questa è la voce di Cristo? William... William... Spregevole traditore... Guarda cosa hai fatto... Non scapperai tanto facilmente... Hai rivelato le tue intenzioni... E ora la pagherai... Ti troverò e ti farò soffrire... Nessuno di voi sfuggirà alla mia ira... Le altre suore sono deboli... E codarde... Non potranno poter... Il suo senso di colpa e la tua paura ti consumeranno... Mentre ti inseguirò... E sta mi sta dando un fastidio sto William... Negli angoli più remoti di questa scuola... Non ci sarà salvezza per te... L'urido ratto... Sm... Suor Matilde... Lavagna... William... 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 Ma che è sto fastidio? William... 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 URCA PUTTANA VACCA BASTARDA NO APRI CHIUDI COS'È? Ma cos'era? Erano bambini? Era uova di ragno però... Bambini di ragno perché... Erano attaccati al soffitto... Pele le lucine... Mi rilassano... C'è sembra un camposanto però... Gli ultimi passi ragazzi... Ma cos'era quella roba lì? Perché tu ti stai già... No... No... Ma si sono dati alla pazza gioia gli sviluppatori... Quindi c'è una faccia sopra la mia testa giusto? Vabbè l'importante è non rivederla mai più... Bene... Affinché i croce fissi sono messi così... E le croci sono dritte... Tutto a posto... La coppa? Minchia no ragazzi... Non mi giro... Vado a gambero... Dov'è? È dietro di me... Non posso muovermi... Orca troia lo sapevo... William? 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 Ma che cazzo... Dove cazzo sono finito? Che minestra mi hanno dato... Alla mensa? Eccola! La coppa? È lei? Ho la coppa magica! E mo? Aspetto che... Cosa posso fare? Aspettare che ci piova dentro? Sai che residui? Sai che metalli? In quest'acqua? In questa sporcizia? Left Martin... Per... Ah no... Ho rotto la coppa? Ma cosa cazzo succede? Porta dei ricordi... Coppa magica... Ok... Siamo usciti da quell'inferno... Left Button... Eh... Fratello di Benjamin Button... Ok... Quindi io mo... Mollo qui... Abbiamo finito il gioco! Aha... Non è che il gioco finisce in 15 minuti... La maschera è stata... La spezzata è completa... È ora di indossarla... Che cosa... Le maschere ci rendono più belli... All'inizio è un po' scomodo... E mangiare è difficile... Beh ma te la puoi togliere però... Ma è così che siamo tutti non ho letto... Ma è così che siamo tutti uguali... Nessuno mi insulta o mi dice che son brutto... Beh sei sempre brutto dentro... Penso che sembriamo tutti un bambino con queste maschere... È l'unico modo in cui non ci fa più male... Se un giorno potessi togliermelo... Non so quali sarebbero le conseguenze... Chi è che sta bisbigliando? Io sento... Io sento bisbigliare ragazzi... Vabbè senti... No cos'è esce dalla botola? Ok... Un passaggio... Mettiti la maschera... Va bene... Non posso passare però... Non... Ah sì... La sento canticchiare... I bambini... I children... Eccoli... Quelli della lavanderia... Gli ho trovati... Sfegati... Sfegati siete là sotto io son qua... Addio stronzi... Oh... Finalmente... Che cos'è... Carrot... Tasty... Non vedo un cazzo... Non vedo... Che bello... Guardalo... Il povero Timmy... Sì però tu sei ulteri... Allora tu sei ulteriormente... Allora io capisco che sei in depressione... Capisco che sei in una situazione... Abbastanza nè... Però c'è tutta una... Una branda per dormire... Questo dorme rannicchiato... Guarda... L'impotenza... Ma che roba... Non temeri poiché io son con te... Non disperare... Poiché io son un tuo dio... Adesso gli bisbiglio questo... Ti darò forza... Ti aiuterò... Ma è pelato... Tavola da surf... Sta dormendo sopra... Il ferro da stiro... Col ferro da stiro... Guarda come lavorano... Vedi la disciplina... Cazzo... E' così che si forma il carattere... Ragazzi... Adesso tutti depressi sui social... Invece guarda qua... Senza TikTok... Senza Instagram... Che bella vita... Penseranno che sia stata una perdita del tubo... Ma sta musica... Ma io perché in questo... No, non voglio scendere qui... Mi picchiano... Mi bullizzeranno... Io lo so... Con questa maschera... Sister Medley... Non ti riconoscerà nella zona di lavoro? Che? Chi... Dove cazzo mi trovo? Ok, questo è tutto un livello... Il simbolo delle catene spezzato... Il martello... Il maglio da guerra del suo Matilda rotto... Avrei forse dovuto... In quale spavento... Oh cazzo... Ma mi... Mi mena? No, non penso... È passato un sorcio grande quanto un avambraccio... Lei è soltanto da... Lei è solo una... Noi siamo in molti... Ribelliamoci... No, che cazzo è combinato... C'è il dessert se vuoi... È passato adesso... Tutto a posto? Mi manca il cielo e il sole... Però vedo che non ti mancano le proteine... Quello è uno stronzo... Ma che schifo... Questo mangia e caga là dove si erge... È una pianta... Svita... Hai bisogno di qualcosa per svitare... There is no way out... Only hopes... Silenzio... The sweet relief of death... Va bene... Quanto voglio tirargli un coppino a sta gente... Sti pelati... Suora... Suora... Allora io... Procedo... Non sono... Questi non sono ratti... Questi sono animali da compagnia... Buco sospetto... Che cazzo vuol dire? Che sta succedendo? Grazie all'ausilio della mente... C'è un dinamitardo... E chi è questo? Ah... Questo è quello che costruiva le cose... Ragazzino artigiano... Se il ragazzo artigiano se ne va... Potrei... Prendere il cacciavite... Oppure potresti prendere il cacciavite... Infilarlo dentro il ragazzo artigiano... Così che il ragazzo artigiano se ne va... Che ne dici? Senti... Arrivati a sto punto... Dovrei che... Penso che uccidere possa essere una... C'è un taglierino... Cioè vedi tu... Solo il ragazzo artigiano può aprirla... Allora... Dobbiamo concatenare gli eventi... Dobbiamo trovare... Della roba... Qualcosa per svitare... E direi che il cacciavite è perfetto... Dei lucchetti sulla maschera? Che tocco di classe... Vabbè mi infilo nel buco sospetto... Esco dall'altra parte... E cerchiamo un modo per distrarre l'amico... Sì ma io sto sentendo dei suoni che non sono... Consoni... Ho paura... Ma dite che la suona mi mena se mi vede? Ma non credo... Cioè... Abbiamo la maschera... Someday you will pay for your action... And God will not be... Non ho letto... Salve... Che cazzo? La punizione... Gli uniformi verranno lavate tra 21 giorni... Torna più tardi per favore... Ah quindi per 21 giorni... Ci teniamo le stesse uniforme... Ma su con la vita... Avete tutto quello che vi serve ragazzi... Dove sto andando? Nella strada giusta? Non lo so... Se si... Eh? C'era scritto che non ti avrebbe riconosciuto con la maschera... Porta bloccata... A posto... Questa mi sa che porta solo alla lavanderia... No... Mi ha detto però che... Non lo so... Vedremo... Ma come lavorano? Posso fare qualcosa con questi... Sì ma... Ragazzi... Seriamente... Un po' di vitamine la mattina eh... Mamma mia... Che tristezza... Queste sono le fabbriche della Nike... Sì? Questa porta? Solo il ragazzo artigiano... Ah che qui c'è il ragazzo artigiano... Allora... Avete un ratto che posso dare al ragazzo artigiano? Ma è meraviglioso... La conceria di pelle... Ma tra l'altro da che cosa la stanno lavando? Che è sta roba gialla qui? Sono le vesti di suor Matilda? Ma quanti vestiti li lavate la suora? Mamma mia queste musiche... Eccoci qua... Svita... Oddio... Mio... Potesse ragazzi esserci... Anche... Il senso olfattivo... Nell'esperienza ludica... Questo posto potrebbe descriverci... Potrebbe autodescriversi... Con un solo gusto... Quello del rimpianto... È di una... Malsana digestione... No... No... Allora... Ricordiamoci ogni personaggio... E ogni tipo di... Peculiarità nel gioco... Lei... Definita la ragazza cesso... Credo... Ci serva... In qualche modo... Stai calma eh... Ehi... No no... 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 No 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 che vuoi? L'avete vista? Non è che sei affezionato... Si compenetra... Che vuoi? Che cazzo vuoi? Buoh... A posto così... Mamma... Buoh... Ha tirato un po' comunque eh... Prossima volta fatela dormire nella baranda di sopra... Perché poverina mi sa che sono un attimino... Un po' contratta la ragazza... Ma devo seguirla? E seguiamola... Che... che... che devo fare? Seguiamola... Sembra l'unico personaggio con la quale posso interagire... Voi? Non dico... Non posso descrivere l'odore che c'è qui... No no no... Va tutto bene... Aspetta... Guarda... Facciamo una bella doccia... Sperando che esca acqua da qui... Ma che vuoi? Cosa devo fare con te? Eh? Eh? Parlo la sua lingua... Che devo fare? A posto... Intrappolata... Non è consensiente? Sono cazzi tuoi? Ma sì che lo è... A posto? C'è un codice... 2 1 7 5... Grazie... Grazie donna Cesso... Ok... Lasciamola riposare... 2 1 7 5... Segnatevi... 2 1 7 5... Ora dobbiamo trovare solo il posto dove infilarcelo sto... Il codice intendo... 2 1 7 5... Che diavolo è? Oh no... Si sta svegliando... Ma smettila di piangerti addosso... Ha tutti i capelli a caschetto comunque... Allora... 2 1 7 5... 2 1 7 5... Alla porta... Dino sali le scale... Non le ho neanche viste queste scale... Salisco... Ok... Di qua? Dite che sia di qua? Ah... Ah... Oh... Oh Cristo è qui... No 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 no... Non aprire... Non aprire... Non avevo neanche visto che c'era un tastierino... 2 1 7 5... No qual'era? 2 1 7 5... Allora... 2 1 7 5... 2 1 7 5... 2... 1... 7... 5... Poi mi spiegheranno che è l'ingegnere che ha messo il tastierino elettronico per la chiusura della porta dentro... Ai condannati su... Suor Filippa... Sono tornato... Quante mani... La chiudo fuori ma... Non posso... Suor Filippa... No no... Non c'è bisogno di... No no... Non la chiami... Oh cazzo... E che devo fare qua? Ma quindi Filippa mi riconosce? Filippa sa qualcosa... Quindi da questo preciso istante ritorna al classico gioco... Immagino che mi insegua la... La stronza... E come faccio a distrarre l'uomo... L'uomo artigiano? Ma è qua? Oh... That luminous and broken mask wearing will protect you from Divine Justice! Divine Justice! E' incredibile... E' poetica... Perché sento piangere? Che cazzo succede qua? Suora? Sta piangendo lei suora? Anche le suore piangono... Ma cos'è sto fastidioso... Lamento che sento di sfondo? Vabbè allora ci insegue... Confermato che ci insegue... Ma dove sto andando? Dovrei ritornare alla lavanderia ragazzi... Non ha senso che li faccia il giro qui... Ho sbaglio... Sono i bambini di sotto? Eh minchia... Che cazzo c'ho lo dito di un labrador? Com'è possibile che io senta attraverso le pareti? Non... non è normale... Adesso la suore inizia a fare... Col fischio, con la ultrasuono... Io svengo... Non ho paura di te donna... Mamma mia quanto sei bella... Quanto sei lungiforme tra l'altro... La... la... la facilito... Allora chiudo di qua... La tiro da questa parte... Eccola... Venghino signori... Venghino suore venghino... Perfetto... E guardate un po'... Ormai conosco a mena dito... Questo posto... Quindi... Mi ci so muovere... Devi portargli i progetti di William... C'era scritto la prima volta che l'ho toccato... Devo portargli i progetti? Ah... grazie... Grazie... Non me ne ero... Non me ne ero accorto... Ok... ma quali progetti? Sì... Sor Filippa... Eh ho capito... Però che cazzo... Mi scorotto la signora qui... Eeeh... Quindi qua ritorno giù... Giusto? Esatto... Qua non dovrebbero rompermi i coglioni... Devo portare i progetti alla stronzo... Allo stronzo... Però... E dove li trovo questi cazzo di progetti? Scusami... Presumo tutti... In che senso? C'è la bambolina... Tutte le robe che abbiamo costruito nel gioco? Devo ricostruire da capo? Dino fa esplodere la suora con la bambola? Mi sembro un po' esagerato... C'è un'altra porta sulle scale... Ma che? Che è sto domino di tristezza? Ma levatevi... Ma andate via! E... magari anche veloci! Impugne... E questo si mette in autopunizione... Sulle scale per salire mi sa che c'è qualcosa... Bugie... Calugne... Menzogne... Allora... Devo portargli i progetti... Vediamo un attimo... Vediamo cosa intende... Provo... Ma dovrei avere... Non ci sono missioni aggiunte... E vedi non ci sono... Aspetta però... Uscendo c'erano delle mani... Seguiamo quelle cazzo di mani... Ma non le vedo più... Ok... Qua ce n'è una... C'è qualcosa qui? Ok... Ci sono delle mani... Seguo le mani... Oh mio Dio... Seguiamo le mani... È un tucatucca... Filippa! Oddio ho detto la parola magica... Quando dico tucatucca lei si... Se ne vada... Va bene... Non acceleri... Di grazia... Non se ne va più... Non se ne va più... Il misterioso uomo dalle mani blu... Qual è? Qual è il tuo magico unguento che hai sulle mani? Da dove deriva? Ho finalmente trovato il bambino giusto... Ma è Cristo? Ma come sei finito qua? Entra dalla porta sul retro... Dobbiamo scappare da qui... Se mi offri un dolcetto... Lo faccio... Altrimenti no... Allora ragazzi... Mi è stato insegnato... Che quando un uomo misterioso... Mi offre un dolcetto... Allora a quel punto... Devo accettare... Oddio... Cosa sta per succedere? Minchia... Senza una gamba... E lei è? William! Ah! Ma che cazzo... Tu hai vissuto qua tutto il tempo? Non avrei mai pensato di dirlo... Ma grazie per aver seguito le mie missioni... Questa è l'ultima... Questa è l'ultima... Oddio insomma... Eeeh... Va bene... Mi sento ancora piangere però... Non capisco perché... Uccidi Filippo... Perchè? Elimina la suora assistente di suor Medellin... Dobbiamo stroncare sul nascere questa follia... Impedire loro di rapire altri bambini... Ma suor Filippa non sa quello che fa... E' una conseguenza... Anche lei sotto le grinfie di Madalina... Ma non c'entra niente poverina... Suor Medellin non può lasciare la scuola a causa di un patto che ha stretto... Quindi da sola non riuscirà a portare un solo altro bambino nella lavanderia clandestina... Io mi rifiuto... Suor Filippa non si tocca... Neanche con un dito... Con una rosa... Spicchiamo il volo... Dobbiamo costruire un veicolo speciale per trasportarci tutti fuori da questo inferno... Porto i miei progetti al ragazzo artigiano... Non è la prima volta che vede uno dei miei disegni... Quindi capirà... Ovviamente dovrei completare la costruzione portando del fuoco... Non sto capendo... Fai in fretta e non ce la farai... O non ce la farai... Nessuno verrà lasciato indietro... Ogni bambino ha vissuto esperienze terribili e merita di essere salvato... Credo proprio... Alcuni sono stati addirittura venduti dai loro genitori... Beh ma questa... Qui si sta andando proprio nel... Cioè qui è un mercato... Di carne... Un commercio di carne ragazzi... Altri si sono lasciati catturare... E allora cazzi loro... Questa è l'evoluzione però eh... Vorrei pensare che nonostante tutto i loro genitori li stiano ancora cercando... No se li han venduti direi di no... C'è una bambina nella lavanderia che può darti problemi... Fa' attenzione e non perdere a lungo il tresito... La bambina nella lavanderia che può darti problemi... Non è che è la... La bimba cesso? Allora... Progetta per la mongolfiera... Ecco tu sei completamente fuori di testa... Ho provato a scappare... Ma le cose non sono andate come pensavo... Oh merda... Ma che è sto suono? E che è successo? Quella maschera che indossi può essere molto utile... Shhh... Che Dio ci sente? Sì... Insegnami come si fa... Concentrati e attiverai la maschera... Usala per uccidere la mia capa... Per uscire scusate... E cosa cazzo? Che cazzo succede? Bastardo! William di merda! Lui lo sapeva! Sono in combotta! Non dovete fidarvi... Non dovete fidarvi di uno sconosciuto... Che non vi offre caramelle ragazzi! Solo se vi offrono caramelle! Solo gli originali! Walt Disney! Ma che cazzo? È stato incredibile... E allora! Merda 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 merda... Via! Fugone! Non di qua! Concentrati! Di qua! Di qua! Sopra! Di qua! Su! Di qua! Ah è tutto aperto! Meno male grazie al cielo! Grazie al cielo! Ma non posso andare dove voglio! Peccato! Fighissimo sto potere! Ci sta! Ma che roba! Lo posso usare quante volte voglio? Bello! Carino! Allora! Allora! Ho i progetti! Uccidi Filippa! Sì ok! Ho i progetti! Senti come frignano! Di qua posso andare! Devo tornare dall'uomo dalmente cattoli? Sì! Non lo so! Dino! È limitato il potere a non sprecare? Dove è scritto che è limitato? Scusami! Eh ma basta! È ancora qua dentro? Sì! Zitti! Zitti! Dino è limitato! Ma io ho... Ah per entrare e uscire dovrò forse usare il potere? Penso che ho sentito un'uomo! Sono i tuoi parenti? Mio dio! William! Will Turner! Jack Christophe corri! Corri! Interagisci ora ora! Ah! Ho vinto! Sta tornando! Sta venendo di qua! È palese! Hai già tutto o vai sotto? Beh! Quindi devo rifarmi il giro! Nooo! Minchia! Allora devo tornare giù! Esattamente dove è andata Suor Matilda! Incredibile! E beh però qua non mi dovrebbe fare del male perché sono un bambino... Mmm... Lo amico il suono di hard work! E non mi dovrebbe fare del male, vero? Non mi fa del male, vero che non mi fa del male qui? Ah! Suora? Sto lavorando! Sto lavorando! Sto lavorando! Al tornio! Va che bello! Lala la! Perdo un dito! Una falange! Perdo una falange! Perdo una falange al tornio! Sto lavorando molto duramente! Ok! 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 Va bene! Dino c'è il progetto per terra? Dove? Dove cazzo era il progetto per... Sto lavorando! Sto lavorando! Sto lavorando! Ma manca il liberto di istruzioni ma prima o poi capisco come funziona! Porta il progetto della mongolfiera a Mastro Geppetto! Allora a posto! L'ho preso il progetto no? Ma che volete da me? L'avete visto suor Matilda per caso? La cerco io! Ma dove è andata? Sento i passi ma non la vedo! Dove cazzo è? Una bambina tra l'altro ha detto che ci causerà problemi! Non vorrei che quella... Quella stronza lì... Magari ci toglie la maschera così per scherzare! Mi infilo nel buco sospetto! Eri in mezzo al parcheggio? Ah cazzo! Allora beh perché sono morto! Ho capito! Devo tornare su! Scusatemi! Eh ma mezz'ora ogni volta! E niente! Devo ritornare su! Porca puttana! Il progetto è caduto davanti alla finestra! Sì 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 sì! Sì 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 sì! Madonna mia! È difficile continuare a... A lavorare con questo suono di sfondo! Di sbadiglio in faccia posso permettermi di essere stanco a differenza loro! Non ci posso credere però ragazzi! Cesta della biancheria! Dio mio! Sister Madeline! Sister Madeline! Suor Madeline! Ho cambiato intanto! Dov'è il progetto per terra? Eccoli qua! Sei cretina! Pirata della strada! Pazza! Psicotica! Minchia! Usa i poteri! E che cazzo me ne faccio dei poteri adesso? Li utilizzerò quando sei... Virà! Porco due! Veloce! 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 No ragazzi sto per svenire! Fermi! Sì come no! Non mi fa passare però! Metti una bomba nella cesta ma siete fissati! Sì sì sì! Dov'è? Veloce! 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 Ok! Ok! Siamo salvi! Abbiamo i progetti! Abbiamo i progetti! Allora! Torniamo dal bimbo! Ed è fatta ragazzi! Ed è fatta! Eccoci qua! Buco sospetto con i progetti! E che ci vuole? Voglio vedere Filippa esplodere! Dobbiamo capire come ucciderla! Adesso il bambino artigiano ci dà un macete! Un metodo creativo per uccidere secondo il ragazzo! Toh! Filippa deve morire prima di consegnare! Filippa deve morire prima di consegnare a lui progetti! Allora facciamo che i progetti li lasciamo qua momentaneamente! Come non pensare che non l'abbia sentito! Porca puttana! Ho fatto cadere un foglio di carta! Chi sono ste gambe? Che? Come... Come... Ma come fa? Un pipistrello! Vabbè ragazzi! Filippa deve morire! Ehhh... Siamo un po' esagerata come situazione però... Che... Che devo dirvi? Orca puttana vacca bastarda! Perdonatemi! Perdonatemi! Bello! Non riesco a gestirla! Sulla Filippa deve morire! Non lo dico io! Allora come la uccidiamo? Possiamo tornare alle nostre dimore? Vabbè tanto la trovo sempre qui lei no? SISTER MADELYN! SISTER MADELYN! SISTER MADELYN! Allora andiamo piano di sopra HO UN IDEA no, 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 no no, 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 no ce li occhi che sono dei fanali oh mio dio dove è andata? ma che te l'è sparita? c'è uscita da lì spavento ma che cazzo succede? pifferaio magico è uscita lì è entrato un ratto allora nei nostri eloggi Dovrebbe esserci una bambola esplosiva Penso Basti un ordigno per uccidere una suora No? O serve qualcosa di più fantasioso Potremmo Potremmo strozzarla con il rosario Padre perdonami Poiché io ho peccato Potremmo strozzarla con un'ostia E tutto implica comunque lo strozzaggio Lo strozzinaggio Dov'è la mia camera? Dov'è camera mia? Qua, basta seguire il sangue Ok Eccoci Allora qua sotto dovrebbe esserci Eccola qui, bambola esplosiva Perché altrimenti c'è Ah, è la pozione del gatto Anche quella non sarebbe male Left button lascia Allora No, 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 no Veloce 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 Allora Non devo sprecarla questa bambola ragazzi Quindi Facciamo le cose per bene Entro qua dentro Mi nascondo nel armadio E faccio saltare con un ordigno A distanza E comandato Una suora È una storia Tratto da una storia verosimile Oh cazzo No, 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 no Interagisci Come devo fare per sparare la... Non mi ricordo più Va messa nei vestiti? Perché? Chi l'ha decisa? Sta cagata Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Detona un cazzo Ferma Che succede? Che succede? Aiuto Esploderà fino a una certa? O... Mi sa che esploderà una certa Non è suor Filippa Però siamo lì Ma Scusate ragazzi C'è un problema Ho sprecato la bomba? No, eh O mi è respawnata nel letto? Mi è respawnata Ditemi che mi è respawnata Per favore Non... È scappata Che cosa vuol dire? Non è scappata Chi? Chi è scappata? È esplosa Come è sprecata? No, non è sprecata Non ci voglio credere Dai, non avrebbe senso Per favore No, non puoi farmi questo gioco Non puoi Non puoi Ce n'è un'altra Ce n'è... Ma sta porta qua L'abbiamo aperta Alla fine Non mi interessa più Prendi il martello E usalo E non ce l'ho più No ragazzi E mo? Cioè io adesso Mi devo ricostruire la bambola Ma non mi ricordo mica Come cazzo si fa Dovrebbe esserci il progetto Alla casa dell'artigiano Porca puttana Lei sa che sono qua vicino Allora la casa dell'artigiano Artigiano di qualità ovviamente Dove vado? Where is the beach? Non c'è Buono Dobbiamo tornare dal ragazzo Dal ragazzo tutto a fare Devi farti ammazzare Mi sembra una soluzione un po' Un po' esagerata Non trovi? Prova a morire Per riavere la bambola Mi sembra che si stia Si stia passando un limite qui ragazzi Ricarica la partita Non esiste Non si può ricaricare la partita In questo gioco Quello che posso fare È andare nel giardino Il giardino è di qua Andare al giardino E vedere qual è la formula Per ricreare la bambola esplosiva Ma questa volta Non sbaglierò Adesso faccio saltare Per errore l'artigiano Minchia mi ricordo ancora Ogni volta che ripercorro Questi corridoi Ragazzi mi ricordo Tutto di queste aure L'odore Compagno di classe Quello strano Che c'era sempre La bavetta alla bocca Qui La bavetta bianca alla bocca Non ho mai capito Per quale cazzo di motivo Non riusciva mai a pulirsi Non si rendeva mai conto L'aula di religione L'ho sempre trovato Una cosa abbastanza ridicola Qui Se ci pensate Effettivamente è abbastanza strano Un'aula di religione Dalle suore ecco Serve la dinamite E la bambola Ok La dinamite Credo che sia di qua La bambola Non ne ho idea Per fare la bambola Serve la bambola Ma Che è stato? Che cazzo è stato? Allora Per fare la bambola Serve la bambola Io mi ricordo che la bambola Forse si trovava di qua Se non erro Credo eh Non è di qua Che si trova la bambola No Eh però ragazzi Dove cazzo si trovava La bambola? Eh ma 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 c'è un problema Forse la soluzione È veramente Crepare Non puoi ricrearla Devi perfora Devi Ah mi devo proprio Fare ammazzare? Sono tre i componenti Dino No i componenti sono Tubo dell'acqua Tirato su col naso I componenti sono due Bambola E dinamite Roba caratteristica Classica Facile da trovare qui In un collegio di suore Ah la bambola ce l'ho Potrei ricaricare la bambola Non ho letto Non ho letto Ricarica la bambola Con della dinamite Per Ferma 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 È qua La suora è qua Non puoi nulla Ricorda che io T'ho anche Buggato una volta Eh Eh Uso il potere C'è ma preso col potere Non sono abbastanza convinto Di questa frase Che faccia più male a te Che a me Non sono abbastanza convinto Di questa Ma mi ha acciuffato col potere Che sta facendo Con la mia carne Però Allora qual è il problema principale Ragazzi Capire adesso Che fine Che fine ha fatto tutto Ho la bambola Non ho la bambola Minchia Eh Scusi suora Cosa Non è il mio nome Suora Si calmi suora Madonna Ok Shhh 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 Ragazzi ma sono 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 eccezionale C'è Sono scaltro Una faina Dov'è che sono morto? Qua Dov'è la bambola? Qui Ok Una ce l'abbiamo È la dinamite che non so dove cazzo sta Allora intanto buttiamogli questa qua dentro Ma Eh E una c'è Serve la dinamite Serve la dinamite Dove cazzo stava la dinamite? Nella palestra Ma dove? Perché la dinamite sta nella palestra? Proviamo a vedere di qua Proviamo a vedere di qua Eagle Pride Un giorno come un altro? Assolutamente no Dinamite Armadietti della palestra Era qua dentro? Ma io che cazzo Ma io non mi ricordo Oh madonna Vuoi vedere che è l'unico armadietto che non ho aperto? E invece Ma che fai? Cretino Nasconditi Nasconditi Era in un'aula? È dove si trova il mappamondo No Non ha senso La dinamite nella biblioteca Era nella stanza dell'arte Vedete come andate d'accordo l'un l'altro? Capite perché non mi fido? Sala mappamondo nascosta La dinamite In biblioteca Perché? C'è cazzo siete incasinati Dio Bono Come quando entri al supermercato E ti chiedi per quale motivo La pasta si avvicina ai fazzoletti Non ha un cazzo di senso logico Sta nella sala del mappamondo Perché? Sotto un banco dove c'è il mappamondo Perché? Vabbè andiamo Se non è così ragazzi Se mi state mentendo Vado Mi è scoppiato una caviglia Basta Basta Peter Griffin E i sotterranei Cazzo ogni volta Basta Figa Allora Mappamo Eh ma allora Cosa c'è? Ci sono gli allarmi? Non vedo Mappamondo Stanza del mappamondo Ho sbagliato Non è mai qua Dovrebbe essere Di là Ma si Ce la faccio Ce la faccio Ho avuto Un leggero Infarto Al mio cardio Nella biblioteca Dove c'è il libro Sotto si apre un passaggio E lì c'è la dinamite Biblioteca Libro dinamite Va bene Biblioteca Di qua Dovrebbe essere di qua Biblioteca 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 Credo eh Non sono sicuro Aspetta Aspetta Sala d'attesa Come? C'è una sala d'attesa Ops C'è una sala d'attesa? Religione Ops Perché sono un elefante Uscita principale Che cazzo è la biblioteca? Aula studio Arte Qua? No Non è qua Non c'è il mappamondo Che cazzo è la biblioteca Ragazzi C'è il suo Oh Perché la suora Rimpero 2? Era velocissima Non va bene Perché era così veloce? Ma è bagata? Suora Tutto a posto? Suora Eh? Non ho capito un cazzo Di quello che hai detto Suora La biblioteca Scusi Dov'è? Dove cazzo è la biblioteca Ragazzi? Aula studio Ma dov'è la biblioteca? Non la trovo più Porta Qui c'è Il teatro Era piano di sopra? Ma no Devo salire? Ma davvero devo salire? Mi ricordavo No Devo salire Su questo piano? Mica ma che delirio è Qui c'è il bagno Suora È dietro di me Faina bastarda Allo studio? Arte Area studio È qua È qua È qua Dov'è? Sta arrivando? No Non sta arrivando Allora C'è un passaggio segreto Dove? 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 I banchi banchi? Ma quali cazzo di banchi? Non ci sono banchi qua ragazzi? Oh no 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 Zitti 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 È un waltzer della morte questo Ho vinto Ok se ne sta andando Quindi? A sinistra Ah sì 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 Non succede nulla Libro misterioso No non ce la faccio ragazzi No non ce la faccio No dove cazzo è il libro misterioso adesso? No ragazzi Non possiamo andare avanti così Non posso cercare un libro Per metterlo sull'eggio Che mi apre un passaggio segreto Che mi porta E porca troia Cioè non finisco più La Bibbia è definitiva? La Bibbia era in palestra? Ma veramente? Cioè ma porca troia Ma vaffanculo però Sono arrivato dalla palestra Mo devo tornare in palestra Torniamo in palestra E dove cazzo sta sto libro? Dov'è sua Matilda? È in palestra E ti pareva Suora No suora Suora Oh eccoci qua Venga Venga Venghi 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 Sto per attivare il potere ragazzi Sono più deciso che mai Attirerò qua la bestia Esatto Perfetto Chiudi Mamma mia Era questo il libro? No non è questo il libro Qual è di questi il libro? Al volo Suora C'è lo sconto All'ibraccio Fermi Il libro dove? Vuole il tuo cuore? Che cazzo vuol dire? Spogliatoi Spogliatoi Ma vaffanculo Spogliatoi 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 Di qua? Lei di qua non può passare Io lo so che lei di qua non può passare Il libro non è lì Grazie Grazie Mettiti nell'armadietto Io mi metto dove cazzo voglio Hai capito? In una stanza della palestra Controlla Cosa? Cosa? Di cosa state parlando? Non sono nella vostra testa Non basta Un verbo Per darmi un comando Non si capisce nulla Controlla che Dove Quando Come Compralo Non è di qua Neanche di qua O forse sì Potrebbe essere qua il libro eh Aspetta Che cazzo è? Gogeta Ho letto Buono Magari è infilato qua da qualche parte Adesso dentro c'è la suora che si fa la doccia Nascondere Nascondere No 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 Oddio no Signora per sugli occhiare Come era uno di quelli Il libro basta prendere uno a caso Ma scusatemi Ma allora perché non posso prendere un libro di merda che c'è a caso Ma no Ma no Serve un libro speciale Ma non ha senso Dino Ma nel cassetto Non è respawnata la bambola E grazie Non c'è bisogno che risponda a questa domanda Vero Serve un libro Ma allora Ma allora ci metto qualsiasi libro che trovo Perdonatemi Che spavento Che succede? Dov'è? Is that chi? Orca troia E però così non la finiamo più Sono le 23 Non ci posso credere Non ci posso credere Ragazzi non ce la stiamo facendo Questo gioco non si può finire C'è sempre un problema dietro l'altro Però abbiamo fatto esplodere il suo armatil È stato effettivamente È stato effettivamente Un colpo di scena Allora qua c'è una bottola per passare Esatto Voglio provarci un'ultima volta Voglio trovare sto maledetto libro La bambola è ancora lì? Sì la bambola è lì Perfetto Allora spogliatoio Libro a caso? Eh? Da una parte è meglio così La prossima volta Facciamo le cose bene La prossima volta ripartiamo esattamente da questo punto Dove le cose hanno iniziato a incasinarsi Questo gioco è come la vita vera ragazzi Non puoi scegliere Capita Basta A quel punto Era una bibbia Ma infatti era una bibbia Anche io mi ricordavo che fosse una bibbia Non è sta roba Non è un libro a casa Serve un libro giusto Ma queste cose Mio figlio Il tempo sembra non passare mai Il dolore della nostra preparazione Rimane mio figlio Mi ricordavo fosse un libro Particolare Magari è qua dentro Mi serve un codice No ragazzi Ditemi che libro è qua dentro Non ditemi che libro è qua dentro E mi serve un codice Per aprire sto cazzo di armadietto Mi sa che è lì Nero con croce rossa È nella camera dello Aspetta che non l'ho letto È nella camera dello spawn Sulle Gio Nella camera dello spawn Quindi devo tornare all'inizio del gioco Com'è proprio lì La percepisco ma non la vedo Codice 5 Ma che è Ok calmi Calmi Sono l'alfa l'omega L'inizio e la fine Una brutta brutta bruttissima fine Che cazzo di suoni sono La gargantuesca Filippa Ma vada a cacare Suora Quindi Dite 30 cose diverse Tu non ci capisci un cavolo Figurati io Figurati io Nascondere 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 Allora qual era il codice 5 7 2 4 Proviamolo ragazzi Proviamo ad aprire sto cazzo di armadietto Con questo codice Sperando che sia quello giusto Trovando così il libro E potendo metterlo sul leggio Che ci permette di ottenere la dinamite Che ci serve per creare Una bambola esplosiva Che dovremmo mettere nel cesto Della biancheria Per che cosa? Per far esplodere una suora Voglio Un tema di italiano Con questa trama Dino prova un Prova uno normale e basta No Non funziona uno normale e basta Perché se funzionasse uno normale e basta Ci sarebbe scritto Metti un libro normale e basta Invece c'è scritto Metti il libro speciale È difficile Qual è il codice? Serve un codice Non mi fa inserire il codice Sai perché? Perché devo avercelo il codice Non devo scritto Non ce la faccio più Come cazzo faccio? Se non funziona il codice Leggio nella tua stanza E torniamo alla mia stanza ragazzi L'ultima speranza L'ultima spiaggia Anche perché devo chiudere Devo chiudere A breve devo chiudere Quindi sì proviamoci Proviamo a vedere nella mia stanza Sperando che sia lì Il libro È buono Avrebbe senso che sia lì effettivamente Perché nella 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 nostra stanza Ci sono tutti gli item Di tutto il gioco Che abbiamo trovato col tempo Quindi in realtà Ha senso come cosa Il problema è come scendo Da qui No Ah E che cazzo Dove cazzo sono le scale però Eh signora Signora Non è tanto il caldo È l'umidità Signora Se lo faccia dire Signora Dove cazzo è Camera mia Signora Infilati In silenzio È questo il libro speciale La Bibbia la trovi in una stanza Vicino alla biblioteca Provo No Speriamo Può essere No Non è quello Sì sono 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 Io Non sono in grado Non ce la faccio Che poi Filippa tra l'altro Mezza svedese Come ti tiro Ti butto giù Da un dirupo Eh 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 Ma una risposta certa No Andrea Veramente Guarda Penso che l'unica soluzione Qui sia per errore Durante una bella passeggiata In centro Cadere in un tombino aperto Non c'è Non c'è Perché ragazzi C'è qua Non la finiamo più Qua mi date 370 risposte Certe E nessuna di queste È quella giusta Fai prima a farti uccidere Mi sono già fatto uccidere Non è servito Una benamata ceppa di minchia Ma prova a usarlo Ma non voglio perdere Del tempo utile necessario Adesso mi sedo qua Con Filippa E mi gusto Non mi gusto niente Con Filippa Va bene Vediamo se ha pollice Punibile per aprire le porte Sì Che domande Mi sono fatto È quello Dino Guarda veramente No non ricomincio da capo ragazzi Col cazzo che ricomincio da capo Butto due anni di esperienza Nel cesso No Allora proviamo a vedere Se è quello lì Ma non garantisco Cos'è che fanno Mi bite 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 you Dove cazzo sta C'è Cioè mo devo tornare Alla palestra Ma non è il libro giusto No alla palestra Guardami Alla La stanza dello studio Del tempo Non è il libro giusto Sono sicuro che non sia il libro giusto È palesemente il libro sbagliato Non è il libro giusto Le cazzo sono Veloci Dino è il libro giusto Non ci credo Non ci credo ragazzi Proviamo a vedere Però siamo più veloci Confettivamente Con questo potere Funzionasse 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 Pugiarti Siete dei pugiarti Del cazzo Quanti obiettivi Ho sbloccato Lasciami stare La prossima volta Lo continueremo Cercando di finirlo Cercando di finirlo Cercando di portarci a casa La vitone Non ce la facciamo Più ragazzi Non è impossibile Questo suor Matilda Non finirà mai Questo suor Matilda Non finirà mai Allora ragazzuoli Per chi resta con noi Adesso ci guardiamo I trailer dei giochi annunciati Però vi ricordo Che vi regaliamo Una playstation 5 A voi sub Il 22 dicembre Facciamo i nostri Copti award Vi arriva una playstation 5 A uno di voi fortunati Si porta a casa Una playstation 5 Digital Con dentro God of War La collector In bundle In sostanza E tra l'altro È appena uscito Il DLC Di God of War Gratuito Quindi God of War Ragnarok Quindi fate voi Fate voi Io ve lo ricordo Per chi sta andando È stato un piacere Per chi resta con noi Invece mo ci si rilassa Grazie Andrea Adesso Adesso Vediamo 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 i trailer Vediamo le robe Con la speranza Di omaggiare Suor Matilda Nella prossima volta Con un Con un Vaffanculo Va bene Sono stufo io Sono stanco Sono stufo Allora partiamo Col trailer di God of War God of War God of War Trailer 17 ore fa E questo Non lo so Da IGN 20 ore fa Mi fido di più di IGN Allora Eccoci qua Dino il video va su YouTube Dimmi di sì Tutti i video vanno su YouTube Ragazzi E chiedete sempre la stessa roba Ogni live viene ricaricata Due tre giorni dopo Massimo su YouTube Da Andrea Tutti i video finiscono su YouTube Non so per quale motivo Ci sono persone che credono Che uno I video siano a pagamento Quando non è così E due Che non finiscano su YouTube Tutti i video Vanno su YouTube YouTube serve a questo YouTube Il nostro canale YouTube È una sorta di archivio Perché qua sul Twitch Dopo 60 giorni Le live spariscono Grazie Dino Per la tua pazienza Prego Non c'è di che Non c'è di che Ma io non capisco Tra l'altro Come terzo punto Dove io trovi questa pazienza Vi fate i film Sì 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 Pensa che Oggi uno mi ha scritto Su un commento Se non sbaglio Era su TikTok Ti prego però Questa live Fa che sia gratis Ma perché Chi cazzo ha detto Che devi pagare Per guardarti la live C'è ancora la credenza Che Twitch sia a pagamento Twitch non è a pagamento Non è a pagamento Chi cazzo va detto Che Twitch è a pagamento Dio bono È difficile È difficile Sei un mentore Sai che ho letto mentone Mi devi dare Due milioni di euro Il libro comunque Era nello spogliatoio Quello a destra Quindi era in quello spogliatoio Lì con l'armadietto Quindi ci serve Ritrovare il codice Quindi io devo andare A capire Come cazzo Trovare il codice Per aprire l'armadietto Tenere il libro No No Ci sarà mai la possibilità Di rivedere le vostre Prime live Eh non lo so No non credo Progenie Perché sono Quelle vecchie 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 Sono andate per dutto Ormai mi sa Cioè stiamo parlando Di roba Ma Purtroppo noi Il canale youtube L'abbiamo aperto Un anno e mezzo dopo Se non sbaglio Perché appunto Abbiamo pensato Siccome molti ci chiedevano Di rivedere le live Abbiamo pensato Effettivamente Che sarebbe stato saggio Aprire un canale youtube Come archivio Poi alla fine Ci abbiamo messo anche Dei contenuti inediti Per carità Adesso io Io personalmente A parte gameplay Non sto mettendo niente Nient'altro Vorrei dedicarmi Molto di più a youtube Però ragazzi Il problema è il tempo Comunque detto ciò Guardiamoci sto video Del trailer Di God of War Ragnarok Grazie al copyright Per averci demonetizzato Anche questo Ma non importa Ma non importa All'inizio non caricavamo tutto Ma solo le serie di punta E chi se lo ricorda Allora Spiegone per chi non lo sapesse Sono un enorme fan Di God of War In particolare Della serie Della vecchia serie Di God of War La parte Diciamo Quella appunto Olimpica Però Il preferito Gioco God of War Preferito Per me Rimane Perché tra l'altro Reputo anche il più bello Il più maturo Rimane God of War 2018 Quello fatto dal designer Quello fatto dal designer Corey Baldrog Che vede il suo seguito E sappiate che adesso Io speculerò un pochino Su questo trailer Anche se c'è poco Niente da fare E quindi Non voglio spoilerarvi un cazzo Ci tengo a precisare Questa roba qui Mi raccomando Va bene Ok Grazie a questo trailer Finalmente ho la scusa Per smetterla di frignare E mettermi a platinare Anche sto God of War Ragnarok Perché effettivamente Poi non l'ho più platinato Per mancanza di tempo Però ci sono quasi In realtà Perché già soltanto Finendo la campagna E completando Praticamente Ogni quest secondaria Sarò un 70% Quindi mi manca Veramente poco Devo finire Di fare tutte le Valkyrie Cioè Scusatemi L'Iena al Jarre Però vabbè Si fa Si fa Si fa Bene Boh Vediamo sto cazzo di trailer Catturato su playstation 5 Quindi hanno catturato Una playstation 5 Ragazzi Mamma mia La musica E già qua Vediamo quello Che dovrebbe essere Un trono Non si sa di chi Non si sa di chi Immagino Suppongo Il trono di Odino Perché questo DLC Che si chiama Valhalla Dovrebbe vedere Kratos Solo Kratos Niente Atreius Tra le sale di Odino Tra il 360 Passa sale di Odino Presenti nel Valhalla Il Valhalla ragazzi Non è un luogo Che vive in simbiosi Con Odino Questa discussione L'abbiamo già fatta Su Telegram Con alcuni di voi È un luogo Dal momento in cui muore Odino Rimane comunque Valhalla Non è che sparisce Quindi ha anche senso Che ci sia Dopo la scomparsa di Odino Perché lo ammazza In God of War Ragnarok E il Ragnarok Di per sé Non è quella cacata Della Marvel Non è la fine Sarebbe in realtà Un nuovo ciclo Di una nuova casata Di divinità Non rene Cioè alla morte di Odino I figli di Thor E i figli di Baldur Creano in successione Quelli che saranno Le nuove divinità E si ricomincia E si ricomincia il ciclo E addirittura Dopo una partita di scacchi Perché finisce così Incredibile Alcune divinità Verranno fatte Rissuscitare Tra cui Odino E Thor Attraverso Il sacrificio di sangue E una radice È una bella storia Che cazzo è stato Che è sta roba Ah ma è la reaction Ecco già Il fatto che Qua sta parlando Con Memir Gli dice Non ti ricordi nulla Di questo posto E lui gli dice Niente che Niente che ci può Niente che ci possa aiutare Io non vorrei che Memir Magari abbia chiesto A Kratos Senti ciccio Non è che andiamo A recuperare il mio corpo Già che ci siamo Dato che abbiamo ucciso Tutti gli dei Che dici Non è che andiamo A recuperare il mio corpo Potrebbe essere Magari rinchiuso Potrebbe essere Uno dei tesori di Odino Ed potrebbe essere Rinchiuso qui Dobbiamo capire Questa modalità di gioco Che cazzo è Perché se è un nuovo È un DLC Con una nuova mappa Da esplorare O è una modalità di gioco Intanto guarda Che figata devastante Che è sta cosa Con questa sorta Di Valkyria Slash Angelo Ma è bellissimo ragazzi Purtroppo Non riesco a leggere Le rune Che ci sono scritte qui Ma è di una figata Della stanta Qua abbiamo già No Non la mia È anche definizione Di merda Devo sistemare questo Non so che cosa Intenda dire Kratos Ma si vede di merda Ma non c'è il trailer Scusatemi Perdonatemi Voglio cercare il trailer Quello A questo punto PlayStation Perché Cioè questo fa schifo Non si vede un cazzo Ah ok C'è quello originale Oh Lo vediamo in 4k Cazzo Cioè questo Dobbiamo capire Se sono arena O se sono mappe nuove Perché sembrano Un po' spoglie Capito Sembrano più che altro Delle prove E di anche qua Niente vergogna In quello che è successo E tutto quanto Fa parte del processo Quindi vuol dire Che noi siamo crepati Rispawniamo ogni volta Che crepiamo Quindi potrebbero essere Delle prove Letteralmente Una meccanica Roguelike Forse procedurale Procedurale Ha rotto il cazzo Lo levassero dalle balle Perché procedurale Poi non ci azzecherebbe Una minchia Con God of War Sinceramente Voglio più che altro Una mappa di design Il procedurale Il sugo Dovor Non lo voglio Però vabbè Vediamo Però se sentite La soundtrack La sentite La soundtrack Quello che Mi ha fatto svenire Ma è la soundtrack Se voi ascoltate bene Questo non è God of War 2018 E non è God of War 2022 Non è God of War Ragnarok Questa è la vecchia Soundtrack Di God of War E infatti C'è un cazzo Di ciclope Ragazzi Quando ho visto Sta scena Stavo per svenire Perché c'è un ciclope Quindi vuol dire Vuol dire Che tra le sale di Odino Questo qua Deve avere In qualche modo Raccimolato Dei tesori Magari anche Delle mostruosità Del Di Di altre Di altre Di altre terre Di altri reami E qui c'è un cazzo Di ciclope Ragazzi Guarda che bello Monster in Co Dino te lo compri Fa quattro giorni Sapremo Esatto Come mai metterlo gratis Perché è un ringraziamento Alla Alla community Almeno così detto Da Santa Monica Un ringraziamento Da parte degli sviluppatori Per i Per i propri utenti Anche perché poi Tra l'altro Loro non credono Nel concetto Del DLC Sì E quindi ci tenevano Qualsiasi sorta Di aggiornamento In uscita Ci tenevano A farlo gratuito Per una questione Di rispetto Cioè nel serio Se tu spendi 80 euro Per un gioco E tu devi avere Tutto il gioco Quindi anche Con gli futuri Aggiornamenti Devi avere Quegli 80 euro Insomma In sostanza Il gioco completo Ed è una cosa Sensata Oddio Per me non c'è nulla Di male In un contenuto Aggiuntivo A pagamento Sia chiaro Basta che non sia Una presa per il culo Quindi a me Non dispiace Il fatto che Io glielo pagherei Lo dico tranquillamente Anzi Non mi dispiace Però lo vogliono Fare gratuito Buono Lo facciano gratuito E me lo gioco Basta Però comunque In generale Qualsiasi lavoro Di sviluppo Che sia anche Un contenuto Aggiuntivo Di un gioco Mi va bene Pagarlo Perché il DLC Cioè il fatto Che esce un DLC Di un gioco Non vuol dire Che il gioco Allora a quel punto Non è finito E ci stanno Prendendo per il culo No è finito Ma hanno voluto Aggiungere qualcosina In più Per ridare vita A un gioco Che altrimenti Dopo un po' Cioè dopo che Te lo sei giocato Mille volte Ti sei fatto New Game Plus Ti sei fatto Quello che ti devi fare L'hai anche platinato Sai Muore lì Invece così Ti dai una nuova linfa E ricominci da capo A giocarlo Sei spronato A ricominciare da capo E ci sta Ci sta Sono cose Secondo me Carine da fare E poi dipende Dall'identità Del DLC Pensate a The Witcher The Witcher Che con i suoi DLC Alcuni a pagamento Altri no Il primo Fu gratuito Perché volevano Rimediare al fatto Che i primi tre mesi Su PlayStation 3 È stato un disastro The Witcher The Witcher 3 E Quei diversi Sono immensi Parliamo di 20-30 ore Di gameplay Con campagna 200.000 dialoghi Cioè robe allucinanti E quella stessa Casa di sviluppo Alla fine ha fatto Cyberpunk Come cazzo Si fa a cadere Così in basso Non lo so Ok Trailer di Hellblade 2 Vediamo Vediamo Hellblade 2 Seno a Sacrifice Vediamo un po' Trailer 20 ore fa Dell'Xbox Game Studios Esclusiva Microsoft Vediamo Vediamo Let's find out Ma è bello Cyberpunk? No Il mio pisello è bello Vediamo Islanca Mamma non vedo l'ora Mamma non vedo l'ora Trailer che non sta dicendo un cazzo Comunque come al solito Nessun spazio di gameplay Manco qua A parte queste camminate Nelle ambientazioni Una scena di combattimento Me la fai vedere Oh Vabbè però è rimasto Proprio come il primo Cioè compare anche su Urto La cazzo Cosa c'ha qua Sulla cintura? Eh Questo ragazzi Non è nulla Di Vaio Kingo Qui invece Vabbè Lei è comunque Nella storia A parte che l'ha infilzato Sulle palle Brava Nella storia Lei è una combattente gaelica Lei è Non c'entra un cazzo Quei vichinghi Il suo ragazzo Infatti fu preso E gli fecero una bella Aquila di sangue Con i suoi polmoni E lei venne catturata Cioè il suo ragazzo Venne catturato Lei cercava in qualche modo Lei poi impazzita però In sostanza Loro non sono vichinghi Abbracciano poi Quello che è tutta la natura Della mitologia norrena Che poi La mitologia norrena E la mitologia ascetica Sono lì Stessa roba Più o meno Molto più Molto meno che più Però vabbè Siamo lì E qua Lei ha Quello che Non è un trischel Quella roba lì Non c'entra un cazzo Con i vichinghi Quindi bisogna un attimo Capire che cos'è Sta a fare Questo amuleto Forse c'era anche Nell'altro Forse c'era anche Nel primo Sai Non mi ricordo Era già pazza Sì oddio No oddio E' impazzita dopo Quando ha perso Non era Non era molto Posto di testa Mi ricordo effettivamente Che c'era la trama Dicevano che lei era Quella un po' fuori di testa Del villaggio E ok Però una volta Che si vede il ragazzo Aperto a metà Su di un albero Ecco lì Qualcosa è scattato C'era anche nel primo Era quello che usava Per fermare il tempo Ah ok vedi Perfetto Perfetto Ah eccolo A sto punto Mi devo rigiocare Il primo Per ricordarmelo Perché non mi ricordo Più un caso Allora questo gioco Voi non dovete Vederlo come Il God of War Per Xbox Sono due mondi Completamente diversi Ragazzi Perché non voglio Che si sminuisca Il Blade Così come si possa Sminuire il God of War Sono due giochi Estremamente diversi Questo è un narrativo Action Con delle meccaniche Di puzzle gaming Ma è un narrativo È un gioco narrativo Quindi quando Se mai prenderete Tra le mani Il Blade Non aspettatevi Un God of War Perché sono due cose Completamente differenti Sono due giochi Bellissimi A loro modo Diversi Per l'amor del cielo Perché a me Sta cosa mi fa incazzare Perché molti dicono Che questo è appunto Il God of War Per Xbox No Non c'entra un cazzo A Ninja Theory Non c'entra nulla Con la Santa Monica Sono due modi differenti Di portare avanti Un progetto Che racconta cose Completamente diverse L'uno dall'altro La storia Di Il Blade Del primo È bellissima È veramente bellissima E parla Della follia Della pazzia Ed è forse Uno dei pochi giochi A raccontarla A raccontarla In modo particolare È fatto bene Con studi E roba Cioè ci sta Ci sta Vabbè Una normale squinzia Del milanese Il sabato sera Comunque Ok ci siamo Quindi questo Aspetta Diamo gli ultimi secondi Lo porti in live Sì sì ci sta Assolutamente ragazzi Quante mani Che schifo Buono Qual è l'altro trailer Od Od Trailer Come old boy Od Trailer Ho scritto Trialer Od Trailer Kojima Un minuto e trenta Di sta roba Ok E basta però eh Scusate ragazzi Ci sono ste pubblicità Insistenti Ecco Od Od Mi incuriosisce Anche io voglio capire Che cazzarola sia Dato che è un nuovo gioco Horror Però Vediamo Più che altro Potrebbe essere Una semplice Tech demo Kaido Kojima Game Ma questa è quella Che per caso Ha fatto ex macchina Possibile che sia Quell'attrice lì No Quella che ha fatto It Ah ok Sì 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 Vedi Sofia Lillis Che cazzo Madonna Sì però sta leggendo Signore scusi Allora Sapete quanto a me Facciano incazzare Questi tipi di trailer Quindi Proseguiamo Che è Fatele sniffare dei sali Perché questa sta andando giù Non sto capendo Non devi capire Impossibile capire Oh Non sei scema HOD Aria legge Trilateral E Mood times For all players And Screamers Screamers Va bene Sarà un gioco anche per me Allora Per i gridatori Trailer che lasciano Il tempo che trovano Ragazzi Semplicemente per farci sapere Che stanno lavorando A qualcosa Quindi Io purtroppo Non sarò Non so Avrò il cuore di pietra Non riesco A empatizzare Non ho idea Quando vedo queste cose Non mi viene da urlare Non conosco il prodotto Quindi tu mi puoi far vedere Anche letteralmente La faccia Del volto di Dio Io ti dico Ok va bene Non so cosa sia Quindi non mi Momentaneamente Non mi prende E il trailer più bello Ho mai visto Ecco vedi Io non riesco Non riesco Cos'è l'altro? Cos'è l'altro? Aspetta Non leggo Non si capisce un cazzo Come al solito Comunque dovrebbero essere Horror psicologico Vabbè Quella è l'unica roba Che forse si è intuita Qual è l'altro gioco? Quello è l'altro trailer Che devo reactare Che non mi ricordo Jurassic Park No Wukong Prima facciamo Wukong Va Wukong Gameplay trailer Credo Spero sia un gameplay trailer Non ne ho idea IGN IGN Tutto di IGN Basta che non sia fatto 19 ore fa Ma un trailer Di 20 Adesso faccio come La pazza di Odd Non c'è il cazzo Di trailer Di ieri Ci sono robe Di tre mesi fa Gameplay trailer Ah trailer Toh Vaffanculo 20 ore fa Oh Ma basta Ma basta Guardate questo cane Che scia No è pure la monster No è pure la monster Ah questi prodotti Che si insinuano Wukong lo voglio ora Vediamo se Se è decente Due minuti e 42 Allora io non nascondo il fatto che a me generalmente piaccia di più la Cina come ambientazione che il Giappone e non nascondo il fatto che per me la mitologia Il folklore cinese sia fottutamente epico senza considerare che è da lì che arriva tutto il Giappone La mitologia cinese è fico Ok Andrea Ma è blu questo uomo Ma è bellissimo La scienza dei giochi Quello è uno spermatozogon Mamma mia Già una figata Le lamentazioni sono già una figata ragazzi Ma che bello Ti voglio di fare proprio così Pfff Poi ecco Guarda che bestialità schifosa Guarda che cazzo di roba è quello Per un attimo ho visto due palle Oh Guardalo Cos'è sta a fare Bellissimo Eh questo ragazzi mi ispira Madonna Attenzione con Fu Panda Cosa diavolo è questo bacco da seta schifoso Ma quante Ragazzi ma qui c'è da Qui c'è da spaccarsi la testa C'è nel senso Vara che meraviglia Ogni creatura Ogni bestia Sembra avere tutta una sua storia Tutta una sua Un suo gameplay Perché immagino che queste creature Dobbiamo affrontarle Spero C'è anche la creatura Più forte di tutti Anche la più spaventosa La fica Panda di nuovo Ma è enorme sto fare Io pensavo fosse più piccolo Porca troia Ma che roba Baco da seta che ci attanaglia Nella sua ragnatela Ah no è proprio un ragno Che figato Bella è anche l'animazione Cioè vabbè a livello tecnico Qua non gli si può dire un cazzo Ragazzi perché sto gioco qui E' eccezionale E' un coleottero gigante Ma di che cazzo stiamo parlando Dai dai Guarda che Che mitica avventura Bello Bello ragazzi Bello Oh ogni trailer di sto gioco Sembra una mana dal cielo Quindi Ci siamo Oh Finalmente Dobbiamo aspettare tantissimo Ok Ad agosto Perché d'estate Che schifo Ma che Che mese di merda è Agosto Per far uscire un gioco Come Wukong Ma che cazzo di mese è Per far uscire un gioco del genere Ma uno sudato e appiccicoso Deve giocare I videogiochi Vanno giocati d'inverno Nel tepore Del letto Nella condizione giusta In cui puoi anche sudare Puzzare Perché tanto Chi se ne frega Cioè non così Da mettere nel carrello Ma si Ma si Ma si Ma si È bello anche questo Poi Jurassic Park No Light No Fire Jurassic Park Dopo lo guardiamo Light No Fire Light No Fire Comunque questo qua Ovviamente ragazzi Quando uscirà Lo porteremo Lo giocheremo Ci faremo la nostra La nostra bella Live Anche se saranno Tutti quanti impegnati A vederla Dal maestro Sabaku Essendo questo Un gioco simile From software Che poi bisognerà vedere Perché magari non è così Qual è Qual è l'altro Light 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 No Fire Cioè là Ah questo qua Era quello Sì Ok Il trailer Del No Man's Sky Va bene Vediamolo Pubblicità Aspettiamo Procedurale Esatto Anche Baldur's Gate Uscito ad agosto Infatti che mese di merda Per far uscire un gioco Io continuerò a dirlo Proprio è stata una roba Meno male Che bene o male Che non esce nulla In quel periodo Per un motivo logico Dino conosci Mars Sì E mi dicono Che assomiglio a lui Quando non è assolutamente vero Però ormai ragazzi Ormai tutti i pelati Con la barba Si assomigliano Secondo non so Quale Cazzo di Concetto Sabaku No Wukong Attenzione Oh ma è partito il trailer Senza che nessuno me lo dica Con una definizione alluscinante Vabbè questo non importa Che ce lo guardiamo Al massimo della grafica ragazzi Giusto per rendere l'idea Vabbè una terra procedurale Ma Bambini morti Questi sono bambini scheletro Gli scheletri sono morti Ergo Questi sono bambini morti Mi ha già stupito Unexplored Red Earth All footage are in game Multiplayer Ah quindi hanno già Ma allora aspetta Però attenzione Perché sta roba C'è già Minchia ma si vede di merda Però IGN Ma che trailer sono Scusatemi Non ce la faccio Non ci riesco Vediamo se riesco a beccare Toh questo qui Magari in definizione migliore Si 4k Uela Ma sono bambini morti No sai cos'è Che probabilmente Ha caricato IGN Ha ricaricato Bello anche l'HUD Bello Questo quando c'è il bioma Sott'acqua Ti fa vedere un pesciolino Qui ti fa vedere l'ossigeno Carino C'è una lontra C'è un ognomo E Qualcuna Non so che cazzo Sto guardando Montano come di disagiati Proventi IGN Ha ricaricato in fretta e fuori Tutti i trailer E Non l'ha fatto Con la definizione giusta No no aspetta Aspetta Fermi Fermi Non puoi buttarmi Ste robe così A cazzo Vabbè Questo Più o meno Bene o male Si è già visto L'erba è blu Quindi A posto Ma Sta Sta cavalcando Di passerotti Dei merli Wow La fantasia c'è Ah questa è la costruzione Oh Ok Ok Si Vabbè Bello Carino Dai ci sta Questi diversi materiali Quindi Questa è la casa fatta in legno Qua abbiamo una casa in legno un po' più resistente Ok Sembra la storia di tre porcellini Manca il lupo che li fa cadere uno dopo l'altra Poi c'è la casa in pietra I mattoni C'è anche poi una storia parallela Che è la storia delle tre porcelle Che succede? Ah questa scena qua Si l'ha già vista prima Allora beh È un'altra roba eh Guardate questa scena qui Già abbastanza esplicativa Giocatori che hanno messo case un po' dove cazzo vogliono Il problema è che le case sono palesemente uguali Quindi evidentemente tu non puoi costruire quello che vuoi Tu potrai costruire una casa Che avrà già una sua forma E dovrai raccogliere i materiali per completare la costruzione E poi personalizzarla con qualche cagatina in più Esattamente come è No Man's Sky Che è vero che si puoi modulare e costruire meglio la tua abitazione Però poi anche c'è già il modulo completato Del lab principale Agganci la stanza Ste minchiate qua Vediamo Magari questo è soltanto materiale da trailer Però qua effettivamente si vedono le case sono tutte uguali Non so quanto possa Adesso col drago va nello spazio Si deve entrare in un'altra orbita planetaria Questa roba è tutta procedurale Si vede già dal fatto che per dire qua La torre è compenetrata con Con la montagna tutta storta Quindi sta roba qui è perché Sono i fuochi Incredibile E qua c'è un'isola che vola Che cazzo è quella roba? Sarà un punto di ritrovo Con un faro che bello Qui si vedeva prima il gigante Questi sono i pupazzi C'è questo uomo tigre C'è questo uomo blu C'è questo uomo furry Buono Accendete i fuochi di Minas Tirith C'è la zona del deserto Ma che cazzo era quello? Ah ci sarà sicuramente una storia Eeeh E' un orco? Ma è Shrek? Ma che è Manone? Ci sarà sicuramente una storia Spero Che non sia Una roba all'anno mensile Nome Sky Che Nome Sky ha una trama Però di per sé Bastanza inutile E spero che abbia anche un senso Il gioco E non sia proprio come Nome Sky Cioè la becera esplorazione Perché sì Bello Romantico Ma che due coglioni Devi darmi un obiettivo Mi dà delle volte Delle vibrazioni fortissime di Skyrim Cioè mi dà quel concetto Di open world alla Skyrim Non dico cosa sembra Perché sono un signore Buono Light no fire E questo affare qua Palesemente estrapolato Da un render Di Nome Sky Ci fa intuire che Un cazzo Qua non sembra neanche più Un fantasy Mediovale Qua sembra proprio Skyfi potente E vabbè Ecco sta scena mi fa un po' cagare Però Sì Bene Metti anche Monster Hunter Wild Certo Grazie JJ Puoi portare Sentient Prossimamente Per favore Non ho la minima idea Di che cazzo sia Vedrò Ho un misto tra Nome Sky e Skyrim E beh sì E' quello il concetto Allora Monster Hunter Wild Trailer Ma c'è proprio il trailer C'è proprio il trailer Io pensavo avessero fatto vedere Un Niente E invece Oh Qualcosa scrocchiato Anche questo trailer In 4k Pappatevelo Allora Monster Hunter ragazzi Faccio una piccola premessa Mi piace Mi piace il mondo di Monster Hunter Mi piace l'idea della caccia Mi è piaciuto molto Monster Hunter World Mi fa cagare Il design Delle armature Mi fa cagare Tutto quel lato farming Quel lato giapponese Dove tu devi vivere Letteralmente perdere E lavorare Per poter giocare E lavorare al gioco Per poter andare avanti Quindi fare le stesse cose 360 volte Così che poi Farti la tua armatura E mi fa anche un po' cagare Quel concetto di Uccido il mostro Ci faccio l'armatura Così uccido il mostro Successivo Però il mostro successivo E' di tipo acqua Io mi sono fatto un'armatura Per proteggermi dal fuoco Perché è questa Quella armatura Che ottengo Uccidendo quel mostro di fuoco Quindi Quindi la prendi in culo E ricominci da capo Una rottura un po' di ball Cioè a me sinceramente Un po' scazza Però è un ottimo gioco Cioè effettivamente Mi piaceva fare le cacce Vediamo questo come sarà Se segue Se segue la mostra Hunter World Però la sembra Già molto più cupo Quasi post-apocalittico Immagino che sia Una zona del mondo Bello Che figata Ecco poi il lato Quello invece Della Bella sti armatilli qua Chissà che armatura Ti danno sti qua Che cazzo Sto guardando Ma è orribile Ma è diventato Dinosaurus La La storia Dell'estinzione Eh addirittura Ma che è successo? Si è ripopolato il mondo Ah forse ho capito Quello è il nostro scopo Cazzo è possibile Che per una volta Non dobbiamo solo uccidere Ma anzi dobbiamo Risistemare l'ecosistema? Bello L'han capito Dopo 30 anni Che sta minchiata Di spellare ogni cosa Che vedi Pesava un po' troppo Il rispetto della bestia Ancora Ma basta Lo dico io 2025 Quindi è inutile Che continuiamo a guardare Sta cazzata Perché 2025 Non esiste Non esiste neanche Il nostro cervello Ancora non elabora Ragazzuoli Allora Si è fatto tardissimo Abbiamo visto tutti quanti i trailer E concludiamo dunque Questa settimana così Io spero vi sia piaciuto Questo bellissimo gameplay Sì Jurassic Park E poi lo vedremo Un'altra volta ragazzuoli Tanto comunque Lo portiamo sul canale Quindi Devo scappare Perché devo portare fuori i cani Ragazzi sono meno un quarto Mezzanotte meno un quarto È tardi Devo scappare Fatti bravi Fatti buoni Io spero vi siete divertiti Spero che Suor Matilda Ci porterà altri Altri Mesi Anni di divertimento Grazie per tutto È stata una ficata Questo evento Generalmente Io sono contentissimo Per il Bardus Gate Quindi io basta Quello che dovevano fare Per me l'hanno fatto Per il resto Me ne sbatto E sono felice Per l'annuncio del DSI gratuito Di God of War Tutto il resto Che hanno annunciato Sembra essere Sembra farci pensare A degli ottimi anni Da qui in avanti Di videoludici Quindi questo Mi fa piacere Forse magari ci scostiamo Un po' Da quella merdata Che è stata È stata il Covid Da quello che Diciamo ha portato Nel mondo videoludico Quindi ha delle lentezze Nello sviluppo E anche dei rilasci Un po' catastrofici Dei day one Un po' di merda Però vabbè Vediamo 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 E niente Questi acce Vi voglio bene Fatti bravi Fatti buoni Io devo scappare Perdonatemi Ci vediamo lunedì Alle 21.30 Con l'Horror Night Ma suppongo Immagino che il maestro Vi faccia compagnia Questa domenica Giusto? Penso di sì Quindi ci sarà anche Andrea domenica Perciò domenica Andrea Io lunedì Con l'Horror Night Con altri giochi Ricontinueremo Suor Matilda Ovviamente E via dicendo Questi acce Vi voglio bene Fatti bravi Fatti buoni Ciao Scappo